Benvenuti di nuovo sul nostro canale, dove si racconta tutto ciò che accade nella rete. In questa occasione, sono felice di riportarvi delle interessanti novità sulla quarta stagione di Terra Mara, una delle serie tv più seguite in questo periodo. Sì, avete capito bene, ci saranno importanti novità nella trama che riguardano l'arrivo di un nuovo personaggio. La nuova entrata in scena è lei, meglio conosciuta come Luftiye, la zia di Fikret. Direttamente da Istanbul, Luftiye arriverà per aiutare Fekeli a gestire il nipote Fikret e il suo comportamento irrequieto. Fikret, infatti, prova un forte rancore nei confronti di Demir e Luftiye sarà chiamata ad intervenire per cercare di far cambiare idea al nipote. Purtroppo, nonostante i suoi sforzi, Fikret non sembra voler cambiare idea e nemmeno Luftiye, con il suo forte legame con lui, riesce a convincerlo a lasciar perdere la sua sete di vendetta contro Demir. Fekeli, preoccupato per il futuro del nipote, decide di chiedere a Luftiye di fermarsi a Ciukurova per un po' di tempo, sperando che lei possa essere d'aiuto. La donna accetta la proposta di Fekeli, ma pone una condizione. Vuole vivere da sola, perché desidera la sua indipendenza. Fedeli, comprensivo delle esigenze di Luftiye, decide di allestire una casa appositamente per lei, dove potrà cucinare, dormire e fare qualsiasi altra attività che le piace. Luftiye è molto grata a Fedeli per questo gesto e decide di rimanere a Ciukurova, principalmente perché lui gliel'ha chiesto. Tra Luftiye e Fekeli si sviluppa una bellissima sintonia e una grande amicizia. Chissà, forse Luftiye potrebbe diventare la sostituta di un Unkar Yaman. Non voglio svelarvi troppo, quindi vi invito a rimanere sintonizzati sul mio canale per scoprire tutte le novità sulla serie Terra Mara. Se vi è piaciuto questo video, vi prego di attivare la campanellina, lasciare un like e continuare a seguirmi per non perdervi le prossime anticipazioni. Ciao a tutti e alla prossima!